E quindi Pedersen che spazza, arriva Thuré, attenzione c'è il passato, e si porta in vantaggio il Blackburn con una follia di Hart, ride persino con lo Thuré forse per non piangere. La cosa è saltata in mente a Hart, lo sa soltanto lui, Thuré era tranquillamente in grado di servirlo di testa, il problema è che Hart è uscito in mezzo al campo, e a sorpresa il Blackburn si porta avanti con Nikola Kalinic, con il suo rilancio di Pedersen. E in tizio un po' Thuré, Thuré tocca, ma lì c'è Hart che naturalmente non può più intervenire con le mani, la porta è vuota, e ne approfitta Kalinic. Anche a Thuré non so cosa si è saltato in mente di abbassarsi, ma ha visto Hart alle sue spalle, il fatto sta che nella maniera puro cambolesca possibile.